Giulianova omaggia uno dei suoi cittadini più illustri, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo insignato del premio Fair Play intitolato alla memoria di Tiberio Orsini nell'ambito del torneo internazionale per categorie giovanili di calcio Emilio Della Penna. Stamani la consegna del premio in Sala Buozzi. Per riceverlo dai miei concittadini, poter rappresentare Giulianova in quel mio mondo, che nel caso specifico è il calcio, mi fa piacere e ci sono venuto volentieri. È sempre difficoltoso per me spostarmi perché poi le distanze sono lunghe, gli impegni sono tanti, però Giulianova che è la mia città mi inorgoglisce e mi fa molto piacere. Giulianova vicino alla vittoria del campionato di eccellenza torna in serie D, ma la tradizione è un'altra. Giulianova ha grandissima tradizione il calcio professionista. Non so quanti anni in C, qualche volta ha sfiorato anche la B. Grande tradizione, ma soprattutto è stato esportatore sempre di talenti. Giulianova ha dato tantissimi calciatori alle categorie superiori. Giulianova ha una storia. Poter ripartire dal primo gradino del calcio che conta, non perché le altre categorie non continuano, ma poi la visibilità è un'altra. È senz'altro importante per riconoscerci anche a livello nazionale, perché tante volte ci scambiano per marchigiani. Marco Giampaolo per noi è un orgoglio, un onore, uno dei più grandi allenatori di calcio di serie A, non solo perché è bravo, ma perché si distingue per la sua professionalità, per la sua eleganza, per il suo fair play. Giulianova puoi fare qualcosa? Giulianova lo sostengo. Poi in futuro se ci fosse la possibilità... Sì.